San Pio, compatrono del Sannio insieme alla Madonna delle Grazie. La richiesta arriva dal sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone, e dal presidente della provincia di Benevento, Antonio Di Maria, a margine della ricorrenza per il 111esimo anniversario dell'ordinazione sacerdotale nel Duomo di Benevento dell'allora 23enne Francesco Forgione da Pietrelcina. Richiesta presentata all'arcivescovo Metropolita Felicia Crocca, che ora si farà interprete presso Papa Francesco del comune desiderio di proclamare San Pio compatrono del Sannio. E questo può essere un esempio culturale, prima che spirituale, di un grande uomo per i laici, per un grande santo per i cattolici. Quindi chiedere questo a Papa Francesco e fare un'eccezione, farlo diventare copatrono, naturalmente dopo la nostra Signora delle Grazie, è un atto di affetto, sì, ma anche di ritorno alla coscienza che noi dobbiamo avere di noi stessi. Ora si dovrà attendere la risposta del Vaticano, intanto esprime soddisfazione anche il presidente Di Maria. Padre Pio è un esempio per tutti, sia dal punto di vista ecclesiastico e religioso, ma anche per quello che ha fatto nella vita. È stato un esempio per come ha vissuto la vita, sua in povertà e ha dato sicuramente dei valori che saranno di riferimento per tutti noi.